LON! Granata Fire! Guardami! 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 Sono Cri-Cetriolo Rick! C'è un regolo minigun! Red, occhio! Vai! L'ho ucciso! Ti sto tirando su! Sta per atterrare il muro, guardalo! Oddio! Ehi Red, ti posso presentare un mio amico? Aspetta, chi sei? Ah no, era una mia amica a quanto pare! No, è un mio amico! Ma è un tipo? È un tipo! Ciao, salutalo! No, guarda! Red l'ho spunato io! Ah! Come hai fatto? Se si era la granata che ti spune un dummy! Oddio! Sono apparse adesso le paleoliche! Ci siamo passati attraverso! Cosa sta succedendo? Io neanche le vedo le paleoliche! Salve a tutti ragazzi! Se non siete ancora iscritti, premete il tasto iscriviti adesso E attivate la campanella per non perdervi i prossimi video! Salve a tutti ragazzi! Sono sempre io Redbox e bentornati sul mio canale! È da tipo un'ora che stiamo cercando di fare delle partite su sto gioco Ne abbiamo fatte tipo due Se questo gioco mi piace, riempitelo di mi piace Se non siete ancora iscritti al canale di Lon E se ci volete bene e non volete che moriamo dentro questo gioco Iscrivetevi adesso E dite nei commenti che cosa volete vedere nel prossimo video Io vi saluto e vi auguro una buona visione! E sarà la volta buona che vinciamo signor Lon! Ecco l'ha detto! Dove vuoi andare? Mambo mi ispira City, è fuori dalle scatole City? O Military Place Il camion davanti a me è capottato in avanti Ah sì? Oh il nostro è sotto sopra, che succede? Ah io lo vedo normale Lon, sei tu che ti sei calato delle troche Io ho la partita sminchiata, madonna cosa sta succedendo? Io vedo della gente che... Oddio sono apparse adesso le paleoliche Ci siamo passati attraverso Cosa sta succedendo? Io neanche le vedo le paleoliche Le paleoliche non le vedo neanche io Ci vogliamo buttare Red, guarda che distante è Vai! Ci provo, vai spara, non mi spara A me mi ha sparato, a me mi ha sparato Non mi spara, non mi... Sparami! Tieni premuto, tieni premuto Tieni premuto i porchi, ho paura a guardare, vai Vai, vai, vai Non lo so Oh ma tu non... No, mi sa che arrivo prima Secondo me sì Mi sa che smusiamo prima Ah, lo smusiamo prima, sì Aia! Sì, smusato prima Ho smusato su una montagna Ho funso bene, ero senza denti anche prima E io non ce ne ho mai avuti perché sono Duffy Duck Ok, il posto Sono Duffy Duck di Taddaq Non ti aspetto neanche tu i suggerimenti per... Ma cosa? Sto arrivando Ma è bello come luogo Io non vedo niente, io vedo tutto deserto Certo Guarda quanta roba invece Qui a destra, qui sulla destra, Lon C'è una città Guarda, a destra c'è gente che sta prendendo la parte destra della città Sì, sì, prendiamo la parte sinistra allora Sì, meglio la parte sinistra dove abbiamo messo le freccine Ma guarda che carina questa città Ah, ci sono morto da queste parti Sì? Ci sono morto, ci sono morto, ci sono tanto loot in compenso Se ti guardi indietro vedi qualcosa di bellissimo, Lon Aspetta, è tipo cittadina seconda guerra mondiale, mi sa Cosa? Io Un pirla Sembrava strano Ho togito odore di pirla Ma io non sono un pirla oggi Io sono un messicano, quindi sentimi odore di tacos Guarda, senti, ho già trovato un medikit, pistole, revolver Ho trovato un fucile Pollettoni di un'arma del 1700, guantoni Red è pieno di cose qua dentro Ah, ok Un fucile Ma c'è roba ovunque, ho già tutti i fucili e tutte le robe Un'accetta Un'accetta con le due mani Cosa ho trovato? Una bomba a mano Il medikit nel metto Altro me E vabbè Ah, ma sai che l'accetta due mani ti occupa due slot per le armi? Davvero? Sì, sì, sì Non posso prendere altro Ok, sono orribile vestito così ma ho dei dettagli Aspetta che mi tengo Non è vero che sei orribile Sei sempre bello per me Tengo una granata Granata a portata di mano si sa mai Dove sei? Sono nella casa di fianco alla tua Ho trovato un elmetto, una granata Aspetta, arriva, 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 arriva Qua c'è il Thompson di prima se vuoi No, sono a posto Red Quanto siamo fuori? Siamo ancora dentro Siamo ancora dentro Però non aspettarei troppo Cosa stai facendo? Eh, stavo cercando di capire dove andare Guardate se stai ingroppando una parete No Vabbè, è sempre amore Chi sono io per giudicare l'amore Che belle ste case T-Red ma ce ne dobbiamo andare perché c'è tanta strada da fare prima di tornare indietro Eh, lo so, stavo solo cercando un attimo dei colpi che non ne ho Un mini, 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 minimo quantitativo di colpi E poi intanto ce ne possiamo anche andare nel frattempo mentre Sì, direi sì LON! GRANATA FIRE LON! LON! Guardami, 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 guardami Guardami, guardami, guardami Sei Piccol Rick Sono Cric Cetriolo Rick Sì Non ci credo mai Sono Piccol Rick Sai che è una È un'armatura Credo sia un'armatura forse Non lo so, è un sito da imbecille comunque E io tanto se ci ammazzano O i medikit Cioè prima di morire Oh oh A me, a me, a me Dove, 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 dove? Dentro alla casa più di fianco L'ho quasi ucciso però Poca vita, poca vita Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo Scappo, 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 scappo Red è dentro, aspetta, sto arrivando Deve salire Gli sono dietro, gli sono dietro, dammi un secondo Vai, è morto, è morto È morto Ok, sono arrivato io adesso, vai Vai, fammi curare Un po' di colpi Fammi curare un attimo Mi lasci un po' di colpi che non ne ho Avevo un so... C'è una balestra qua Credo, dobbiamo andare perché la barriera sta arrivando Si ristingerà fra poco Via, via, via Dobbiamo risuperare il ponte e correre via la velocità della luce Aspetta Ci sono dei colpi qua se vuoi Vediamo Ah no, è un taser, è un taser Eh, sono le batterie del taser Non me ne faccio niente Lo mi hai cercato di ingannare, ammettilo Vedo però la freccia gigante Quindi credo sia quello il punto Dalla pacca direi che il muro sta scendendo adesso Oh, può darsi Grande idea Cioè, ok, bel punto Ma siamo sponati in culolandia Porca di quella porca Vabbè, almeno abbiamo il loot sto giro Non lamentiamoci sempre di tutto Ci ammazzaranno con tre secondi di ritardo probabilmente Beh, uno l'abbiamo ucciso Sei buono, uomo cetriolo Io sono l'uomo cetriolo Il cetriolo Oh Red, guarda, guarda bene Guarda la M Premi M M Guarda dove è il nuovo muro Ah Eh, non è male Eh Potevamo stare anche lì forse Potremmo anche star lì È che ci vuol culo che non spuni proprio in città Che non si chiuda dentro l'acqua Perché dentro l'acqua cosa facciamo? Eh, il bagnetto Ma non mi piace fare il bagnetto vestito da cetriolo Da pirla, sì però Poi mi inzuppo tutto Divento più gonfio Che dici? Restiamo alla città e vediamo se abbiamo fortuna Ma sì, ma prendiamo un po' di loot intanto Che io ho bisogno di colpi Ho solo 14 colpi da una parte e 30 dall'altra Quello scontro mi ha costato un sacco di proiettili Guarda c'è una base militare Ah, lo so C'è una base militare Eh, lo so Io ho la catana Bravo, vai a catenare da un'altra parte Non è Fortnite Un Red Hot Finalmente un mirino Vai, vai Guarda che base militare Red corri perché c'è di tutto Arrivo Eh, ma sto trovando di tutto anch'io Se abbiamo culo il muro non si chiude su di noi Il problema è che ho paura che ci sia gente Arrivo Arrivo Arrivo, 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 arrivo Arrivo, arrivo, arrivo C'è gente, c'è gente, c'è gente Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando Sto arrivando, sto arrivando Sono un attimo Eh, lo vedo, lo vedo, lo vedo Provo a sparargli da qui L'ho preso, l'ho preso L'ho preso in testa È a 139 per me Per te non lo so Lo vedo, aspetta, aspetta Lo prendo una volta in testa E se mi laggassi di meno Porca di quella porca Arrivo, 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 arrivo Mi ha quasi ucciso con un colpo Aspetta, aspetta Gli sono arrivato da dietro Ok, hai fatto fuori Bravo, dimmi che ha un medikit, ti prego Tante cose ma non so se ha il medikit onestamente Il problema è che dobbiamo stare attenti Perché mi ha ferito tantissimo Dal mio secondo che mi curo anche io È a livello 5, sì Il Piccol Rick è un'armatura di livello 5 È un'armatura rara? È un'armatura leccentaria Ok, ok Un po' di Don Ciclo domani è la vita C'è un po' di granate fighe E una spada No, no, che mi trovo bene così Ok, siamo messi bene però Eh, non ho vita io Io ho un po' di bende se vuoi, aspetta Sì, magari sì È che te le droppa tutte purtroppo Eh beh, le metto Guarda qua c'è un mitraglione pesantissimo, Lollo Prendilo Guarda la roba che c'è qua dentro Eh, lo so, ma anche qui Guarda lì, c'è un mitraglione Eh, vabbè Il problema è anche se Dimmi che mi droppa la pistola leggera, suo culo No, mi droppa il fucile No, il pompa Eh, però dai, mi arrisco Perché, eh, eh Bato 474 colpi Eh, vabbè Eh, io prendo allora il pompa E la catana la lascio Perché tanto non arriva Ti ho morato anch'io il pompa Mi passi una penda, per favore Hey, Red, ti posso presentare un mio amico? Aspetta Chi sei? Ah, no, era una mia amica a quanto pare No, è un mio amico Ma è un tipo? È un tipo Ciao, salutalo No, Red, te l'ho spunato io Ah! Come hai fatto? Se c'era la granata che ti spune un dammi Ma cacchio, mi sono spaventato tantissimo Sono una persona orribile Ma è proprio brutto poi Ti assomiglia Ah, hai amici, tu belli No, ma è perché assomiglia a te Ah, grazie Ma senti Ed, hai finito di fare beatboxing Ma sono io Si, sei tu Ho l'arma al contrario Non premere G Ok, cretino Perché? Smettila Fallo tu un attimo, per curiosità Voglio vedere com'è andai fio di fare il cretino ma è bellissimo giocare così no siamo fuori siamo fuori ci conviene tornare alla città abbiamo fatto bene ad andare fuori dall'isola perché sta chiudendo nell'isola neanche a farlo apposta c'è uno scudo di quelli si red torna in città perché ne mancano ancora 11 recuperiamo le ultime munizioni a questo punto affrontiamo chiunque ci sia io ne ho moltissime ho dato un po' di band io le munizioni sono messo bene tipo quest'arma qua hyper super overpower ho visto qualcosa qua un medikit ma mi freghi te mi è venuto basta ah c'eri tu dietro di me come faccio però che ho appena rubato un medikit sono entrato nella tua stessa casa ok trinceriamoci da qualche parte aspettiamoli al barco ok così che quando meno ce l'hai un'altra roba della dummy ah ce l'ho io una dummy no le ho finite le dummy come faccio a tirarla sotto così gli sparano mettilo sullo slot 4 in basso a destra ah ok si quello quasi la puoi lanciare dove vuoi oh cazzo non so cosa ho fatto aia cos'è stato non lo so hai lanciato una bomba a mano red no questo guarda cosa ho in mano cos'è cos'è cosa non hai niente in mano guarda quello che ho lanciato là guarda vuoi là che cavolo era non era la dummy è la knockback è quella che ti butta indietro ah aspetta guarda allora aspetta c'è roba nascosta qua sopra ecco ho buttato la dummy ma la dummy assomiglia a te red trincerati qua sopra chi ci piglia ah guarda sei salito malissimo ma ce l'hai fatta senti rimangono chi è che fa bootboxing sei un cattino mi sono caccato spero che un muro ti cada addosso ma male sai che se ti corri chi non puoi mirare ma se ti corri mentre fai beatbox lo smesso no 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 ti prendo danno mi ha dato danno come ti hai dato danno si mi ha tolto un po' di vita mi tocca usare un'altra delle tue bende dato che tu hai preso il medikit esagerato aspetta che rimetto anch'io le granate che non facciamo pilate c'è il muro tanto vicino red eh si dobbiamo spostarcelo si c'è il muro troppo vicino per cui mi riguarda meglio spostarti seguimi ho messo già il punto vieni vieni ok mio dio sentivo il rumore tipo gli alieni e non ero io che facevo sta per atterrare il muro guardalo e oddio via 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 dobbiamo andarcene via 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 dobbiamo andare sulla collina è quello il punto finale dai rimangono 8 2 siamo noi red stavolta siamo ben armati tu hai il costume lì livello per power si esatto io c'ho piccolo rick che dovrebbe difendermi abbastanza non so quanto ma non ti preoccupare che li sfondiamo almeno uno ce lo portiamo a casa dai almeno uno dico e sparome io non ho detto chi ho detto almeno uno ti ho detto che uno ne portavamo a casa esatto te lo ho detto guarda questo albero palesemente uguale a quello di Ford no non è vero sto scherzando oh c'è un tipo c'è un tipo ok lo vedo lo vedo lo vedo preso preso vai 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 te l'ho detto che uno te lo portavo a casa buono occhio che non sappiamo se è da solo no ma io ho bisogno solo di oh c'è una minigun avevo una minigun prendi la minigun casomai 7 e 2 siamo noi red dai che facciamo la battle royale anzi la victory royale come si dice si esatto sento gente che si spara dov'è oh ho preso 180 colpi della mia arma almeno adesso sono armato buono 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 occhio perché sento gente che si spara qui davanti mi sa qua sotto si è qua sotto stiamo in questa casa un attimo la vedi facciamo qua dentro un attimo si dai ci sono due entrate siamo quasi al centro io guardo questa qua sul retro ok ok però penso mica scemo mi metto qua di lato qua in un angolino si sa mai eh bravo io sto qui invece io mi metto qua sul letto e guardo lì magari mi abbasso sento il muro ma noi non siamo ancora vicini eh eh siamo ancora dentro la safe si 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 siamo quasi al centro come sei messo come sono messo come sono messo no no è posseduto dal demonio ma lontano come sono messo c'hai malattie oddio vedo tutto il mio corpo davanti a me vedo la mia testa davanti a me ok no 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 io vi sto oh c'è gente lo vedo eh 150 qui davanti aspetta aspetta li vedo laggiù li vedo laggiù sono in mezzo alla strada hanno dei mirini laser loro ci hanno più precisione stiamo coperti stiamo coperti siamo coperti hanno dei mirini laser loro stai dentro stai dentro uno è morto ce n'è uno ancora in lontananza 160 160 proprio sono tutti un po' separati eh quindi noi abbiamo una casa abbiamo un attimo un vantaggio tattico ce n'è uno là che ci sta mirando forse dal fienile a 141 lo vedi è entrato adesso dentro il fienile a 141 vediamo un po' come siamo messi dice che le pareti sono arrivate si però guarda schiacciamo siamo quasi al centro siamo dentro mi sa che siamo qua per il final showdown dove sale la lava oh cavolo come facciamo allora dobbiamo cercare di farli fuori eccolo si sta avvicinando il tizio occhio lo vedo eh ma pigliarlo con questa arma è difficile è abbastanza difficile sono in due sono in due sono in due occhio l'ho preso una volta sola l'ho preso lui non mi ha toccato oddio 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 si stanno sparando arriva arriva aspetta provo preso preso ok eh ma è difficile preso di nuovo preso mani la mia ho preso mi bendo un secondo la porca preso preso li ho presi tutti e due siamo tutti ben difesi a quanto pare ah beh siamo noi due loro due e uno da solo non c'è più nessun altro sono gli ultimi porco cane abbiamo le pareti in parte proprio vedo qualcosa che volava ci usi regalo la minigun red occhio 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 vai l'ho ucciso ok 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 ti sto tirando su ti sto tirando su ti ho tirato su sei vivo si vivo per poco però aspetta che prendo un red c'è il piccol rick leggendario prendilo aspetta dammi un secondo dammi un secondo red sta arrivando qualcuno mi sto curando stanno arrivando dove sono le mie armi non lo so qua c'è tanta roba vieni qua c'è tutto qua pitta 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 perché hai sparato un colpo non ho sparato niente hanno messo un muro portatile guarda si hanno il muro portatile a quanto pare aspetta che mi cucoli allora l'hai capito adesso loro sono lì ok dammi un secondo red non c'è più nessun altro mi sto facendo mille si si ti sto dicendo solo che ci sono solo quei due lì si stanno avvicinando tutti e due tutti e due si stanno avvicinando uno l'ho colpito uno l'ho colpito si si arrivano dal muro mi aspetto davanti alla porta con la minigun e va a fan club ma infatti chi ce lo fa di fatto io non esco se vedi che sale la lava no siamo sulla montagna per fortuna ok ok siamo messi bene hai preso tutto quello che potevi prendere si stanno cercando di aggirarci però io guardo dietro io guardo dietro tu guarda davanti dai che questa è nostra sono rimasti solo le pareti dovunque mi sa che sta per salire stanno buttando le granate ci vogliono buttare le granate in casa cavolo non ci avevo pensato potrebbe essere un problema si in effetti è qui è qui uno è qui dietro uno è qui dietro ok 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 ma rifio io eccolo 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 pitta aspetta vai buttato giù buttato giù buttato giù è vero si red sta salendo la lava pian pianino le cose laggiù dobbiamo cercare di buttare giù l'ultimo tizio ed è fatta eccolo è dalla mia parte arrivo arrivo sto ricaricando sto ricaricando è dalla mia parte porco cane porco cane occhio eh occhio da che parte è dietro l'albero è dietro l'albero occhio non lo vedo mi ha girato mi ha girato porco cane la lava sta salendo tantissimo si si grande 4 kill vai grande vittori royale anti vittori royale ma tu mi sono caccato vai guarda come corriamo felici adesso si siamo riusciti a vincere qualcosa yeeey mio dio che panico se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace se non siete ancora iscritti fatelo adesso passate dal canale di lone noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao